È un paese tranquillo bergamasco nell'Alessandrino appoggiato a ridosso delle colline del Monferrato, patrimonio dell'UNESCO dove vivono poco meno di 700 persone. Un comune dotato di tutte le strutture, compreso un asilo da poco ristrutturato con un'ampia sala polifunzionale dove i bambini possono anche festeggiare i loro compleanni. Le maestre, oltre al classico programma, ogni giorno si adoperano per fare in modo che i piccoli possano apprendere nozioni quanto più complete per essere pronti agli anni di studio che verranno, compreso l'apprendimento della lingua inglese. Ma l'asilo di Bergamasco, come molti istituti dei piccoli paesi, soffre la mancanza di iscrizioni. Da qui l'appello del sindaco e di chi in questa struttura ci lavora affinché le aule possano presto animarsi di tanti bambini che vogliano crescere in un contesto dove ancora conta il benessere individuale. Tre minuti con Maurizio Silvestri. Tre minuti qua a Bergamasco, sono qui con il signor sindaco Gianluigi Ratti. Buongiorno signor sindaco. Buongiorno, buongiorno. Allora facciamo tutti un appello a quelli che ci stanno ascoltando. Un appello per cosa? Per questa scuola di Bergamasco. Esatto. Noi siamo qui per dire alla popolazione e tutti i cittadini di Bergamasco che l'amministrazione comunale si impegna moltissimo per mantenere queste scuole. Le sarebbero le gala più belle che ci potrebbe fare per Natale, diciamo. Una scuola quando chiude in un paese è veramente una cosa bruttissima. Quindi voi cosa tentate di fare? Proviamo a coinvolgere tutti facendo tante belle iniziative con la popolazione, con i volontari, con il comune, le nostre maestre. C'è un bel ambiente tranquillo. Chiedete anche agli altri paesi, portate i bambini qua, non portate le grandi città. I paesi devono andare avanti, devono avere ognuno una scuola e devono portare gente. Senz'altro perché questa scuola è ubicata in un posto meraviglioso. Un benessere psicofisico nei bambini che è molto importante per quanto riguarda l'interiorizzazione delle competenze e quindi anche della creatività. Se dovessero chiamare o venire qui possono visitarla? Certo possono visitarla. Ci sarà l'open day a dicembre dove potete visitare, vedere dentro le aule, vedere il giardino, sentire il silenzio che regna qua e vedere le proposte che possiamo fare tutti i giorni. Facciamo delle metodologie CLIL, utilizziamo il coding, utilizziamo laboratori sensoriali, multisensoriali per il sviluppo delle competenze. Molti nostri progetti sono coinvolti anche dai nostri colleghi, dai nostri amici, dai nostri compagni della scuola dell'infanzia, proprio per portare avanti questa continuità, proprio realmente. Quindi c'è da dire che oltre a fare la maestra, proprio, vi inventate anche tutte queste cose perché è importante per riuscire a portare i bimbi qua nella scuola. Queste sono cose più legate alla tradizione, però poi c'è tutta una parte più moderna legata all'innovazione tecnologica, all'inglese. Infatti quest'anno, per esempio, è partito un corso di potenziamento, i bambini infatti lo stanno facendo, un corso di potenziamento sulla lingua inglese. E' importantissimo. Inolastico, esatto. E poi altri progetti scientifici, tecnologici, di teatro. Insomma, abbiamo veramente tante cose belle. Grazie ancora per la vostra partecipazione. Vi lascio perché devono rientrare nell'aula e quindi devono ricostruire e inventare tante cose. Grazie ancora e buona giornata. Grazie a voi. Grazie a voi.